Si chiama Nash Steinemann e pensate che i medici avevano pronosticato a questo bambino che non sarebbe vissuto fino a due anni. Invece Nash, che di recente ha compiuto tre anni, ce l'ha fatta. Il suo compleanno è stato festeggiato con una parata nella strada dove vive con tutta la famiglia nella periferia di Chicago, negli Stati Uniti d'America. Eppure i medici avevano detto a Britney Steinemann che il figlio non sarebbe riuscito ad arrivare a due anni e invece ce l'ha fatta. E per questo buon traguardo, ecco che la città ha deciso di regalare una festa immensa, un party vero e proprio, per il terzo compleanno del piccolo. Bene, come vedete a volte può capitare di sbagliare anche eventualmente al mondo della medicina. Questo dunque sarebbe quanto. Complimenti al piccolo Nash, questo bambino così meraviglioso, che è arrivato ad un traguardo importante come questo. Un saluto caro al prossimo video da narratore italiano Arias Reandro del web o mail di YouTube Italia.